La Lorenza Saia, studentessa del Diceo Classico, oggi studentessa dell'Università di Torino nel Dipartimento di Antichistica, quindi lei ha proprio sposato l'amore per il greco. E poi abbiamo Marta Montanaro, che è filosofa e attrice, perché ha fatto gli studi di filosofia presso l'Università di Torino e poi ha deciso di proseguire con studi di accademia. Il professor Manzelli, pilastro della nostra scuola, storico, scrittore e via dicendo, si presenta da sé e il professor Santomauro, professore a merito del Politecnico di Milano, ex docente del Diceo Classico di Imperia. Simone Barbarino è laureato in Fisica ed oggi lavora a DRETA specializzato allo normale di Pisa, mio ex alunno, bravissimo, proprio una stella, veramente un alunno meraviglioso, e poi Gianluigi Puglio, ex insegnante, ex alunno del Diceo Scientifico, normalista e è stato nostro collega durante gli esami di maturità quest'anno ed è stato veramente geniale, cioè veramente come associare genialità, simpatia e veramente cultura e modo di essere molto umano con i ragazzi. Noi eravamo un po' spaventati, quanto abbiamo visto, con tanta scelta a giungere, i ragazzi erano piuttosto emozionati e invece il professore è stato veramente straordinariamente bravo, intelligenza e umanità, come dice una a una. Benissimo, a voi la parola. Altre, grazie. Il prezzo che non c'è tra l'esame, non c'è tra l'esame. Grazie. Non pensavo di fargli dopo due saluti, comunque colgo l'occasione per ringraziare moltissimo anch'io e i nostri ospiti per la loro disponibilità, voi tutti che siete presenti, e vorrei esprimere la mia soddisfazione personale, quella dell'istituzione, per questo primo convegno a carattere scientifico-filosofico, e mi auguro che ce ne possano essere in seguito anche degli altri, perché sono evidentemente delle iniziative che danno lustro alla scuola e ne permettono anche di crescere, di maturare, di arricchirsi culturalmente, ma anche di aprirsi al territorio e di dimostrare una università culturale che è opportuna che una scuola abbia, ma che non tutte le scuole hanno in maniera così scontrata. La tematica di oggi è di dubbio interesse, perché la figura di Majorana nella storia della scienza e della cultura del paese, i ragazzi di Via Perno Sperna sono una gloria nazionale, e tra questi forse la figura più affascinante, anche se non quella forse di maggior rilievo nel gruppo, ma comunque la figura più affascinante anche per la vita, per il mistero che circonda dalla sua scomparsa, ma anche per le sue qualità intellettuali che tutti gli riconoscevano, è proprio quella di Majorana, quindi credo che la cercheremo a indagare su questo grande mistero della cultura italiana. A voi la parola, grazie. Buongiorno a tutti, vi do benvenuto a questo convegno sulla ricomparsa di Ettore Majorana. A breve darò la parola agli oratori che vedranno la figura di Ettore Majorana, come si usa dire oggi, a 360 gradi, abbiamo lo scrittore, il giornalista, il deprematore di versi, abbiamo il fisico, il chimico, che quindi potranno vedere un aspetto di questa figura molto misteriosa, molto strana, nell'aggettivo che è stato usato molto anche nel descrivere il carattere di questo personaggio. Permettetemi soltanto di dare due date per inquadrare il periodo storico in cui è vissuto, saranno poi gli oratori a declinare i vari periodi con maggiori dettagli. nasce nel 1936 a Catania, poi si laurea con Fermi all'età di 22 anni in fisica teorica, viene poi nominato per chiara fama direttamente dal ministro e professore ordinario di fisica all'Università di Napoli e proprio da Napoli inizia quello che oggi andremo a vedere. prendo un traghetto per Palermo e poi non ne se ne sa più nulla. Erano poco più di 80 anni fa, siamo nel 1938, nel mese di marzo, avviene questo fatto che poi, diciamo, darà origine a tutta una serie di concetture. Sulla scomparsa di Magliorana sono stati scritti tantissimi libri, ne darà ricordato in dettaglio oggi uno, quello di Leonardo Sciascia, appunto intitolato La scomparsa di Magliorana. Sono stati fatti anche dei film e documentari, ne cito uno, chiama Nessuno mi troverà, è un docufilm del 2016 di un regista che si chiama Aaronico, che è, diciamo, una raccolta di testimonianze di persone, appunto, non si vive oggi, ma che ricordano il nipote di Magliorana, ci sono dei fisici e che danno un certo, così, aspetto, una certa visione di quella che è stata questa scomparsa. Un film un po' strano perché il collage tra le varie parti, documenti, interviste, eccetera, è fatto a cartoni animati, in bianco e nero, ma non in bianco e nero con le sfumature di grigio, è bianco e nero, e questo conferisce ancora questa lode di mistero, ancora un po' di più, insomma. Non voglio aggiungere altro, vorrei soltanto ringraziare gli organizzatori che mi hanno invitato a presidere, a coordinare questo convegno, cosa che io ho accettato, perché mi ha permesso di ritornare indietro di qualche anno, quando molti anni fa mi sono diplomato al liceo classico, quando stavo ancora nella sede di Piazza di Sedali. Grazie. Grazie.